Al Via Domani in Piazza Sant'Anna viviamo la piazza, iniziativa ideata dall'amministrazione comunale di Albanella per confrontarsi con i cittadini. L'incontro si baserà sul tema come migliorare le piazze per poterle vivere, a cominciare proprio da Piazza Sant'Anna nella frazione Matinella. Già in questa ottica abbiamo pensato fin da subito, la prima scadenza sarà venerdì 5 luglio in Piazza Sant'Anna a Matinella, ad organizzare un confronto con la cittadinanza. Più che un confronto è un modo di reperire idee e suggerimenti in relazione ad un argomento specifico che ha rappresentato una parte importante del nostro programma amministrativo e che sarà linea guida nella nostra futura azione amministrativa. Intendere le piazze non tanto come luoghi fisici da abbellire, da decorare, da rendere vivibili, ma soprattutto come momenti di incontro e di aggregazione sociale fra le persone. Sfruttiamo questa occasione per portare a conoscenza della cittadinanza quelle che sono delle ipotesi di lavoro e sulle quali vorremmo il confronto e il conforto dei cittadini di Albanella. Parleremo di decoro urbano, parleremo di organizzazione degli spazi comuni, soprattutto staremo a sentire quelli che sono i suggerimenti dei nostri concittadini. Proprio perché trasparenza ma soprattutto condivisione delle soluzioni per noi rappresentano un filo rosso che seguiremo in tutti i nostri successivi interventi e la nostra azione amministrativa.